Esiste un mondo intorno a noi. Esiste un mondo dentro di noi. Abbiamo inventato. Abbiamo esplorato le profondità. Abbiamo esplorato le altezze. Abbiamo osservato il mondo attorno a noi. Abbiamo trasformato il mondo attorno a noi. Abbiamo costruito binari per andare. Abbiamo costruito monti per raggiungere. Abbiamo costruito monti per raggiungere. Abbiamo costruito monti per raggiungere. Abbiamo costruito monti da raggiungere. E chi è speciale per noi. Abbiamo costruito. Abbiamo costruito lo spazio. Abbiamo costruito l'energia. Abbiamo conosciuto il tempo Oggi è tempo di conoscere noi stessi Grazie a tutti